Ciao a tutti, eccomi qui con un nuovo video poll volevo mostrarvi tutti o quasi i prodotti color pop che ho acquistato a inizio estate quando c'erano le spedizioni gratuite internazionali, sconti, insomma promozioni, un sacco di cose tutte insieme e io ne ho approfittato, volevo ringraziare Claire Ruiz Oxford, Chiara che mi ha dato, non involontariamente, però in un gruppo o su Instagram degli ottimi suggerimenti e quindi insomma sono riuscita a ordinare più cose e quindi grazie e adesso vi faccio vedere tutto quasi quello che mi è arrivato dico quasi perché una palette che è la Gemini by Night ve l'ho già fatta vedere, non ce l'ho qui però insomma vi ho già fatto il tutorial e tutto che vi linko qui da qualche parte e quindi adesso vi faccio vedere il resto che ho già usato, testato, insomma provato però non vi ho ancora fatto vedere diciamo nello specifico inizio con i super shock, gli ombretti più famosi diciamo di Colourpop e anche quelli che hanno fatto diventare così famosa Colourpop e io ne ho presi 4, le scatoline sono molto molto belle però non c'è scritto il nome sulla scatola bisogna proprio aprire, estrarre un ombretto e leggere dietro sono carine, bianche e turchesi qui c'è scritto Made with Love in the USA e di qui Keep the Magic in Clothes Jar Type 3 After Use che significa per mantenere la magia chiudere ogni volta il prodotto quando si è finito di usarlo perché altrimenti si secca allora parto con Melrose ho preso dei nomi super anni 90 e anche dei colori super anni 90 Melrose è questo è questo marrone rosso molto molto caldo molto bello e questi ombretti appunto sono molto particolari perché sono morbidi e quando si toccano sono incredibili hanno una texture molto particolare sono una crema polvere gel che appunto se voi schiacciate resta proprio l'impronta del dito cioè il solco e anche quando si prelevano poi sul pennello fanno un effetto particolare si prelevano e lasciano come dire una patina di colore questo era appunto Melrose poi che cosa ho preso ho preso Beverly questo qui è un violaceo molto grunge che ho usato parecchio e qui proprio potete vedere cosa intendo quando dico che resta l'impronta poi ho acquistato Donna che è questo verde qua questo qui è un saten eccolo qui e poi il mio preferito ho preso Soquish dovrebbe chiamarsi così Soquick però c'è scritto Quish e questo è un ultra glitter molto bello questo è un color un po' olivastro con dei riflessi dorati e viola anche è bellissimo sulle palmbre questo veramente stupendo poi ho acquistato un eyeliner in crema gel ho preso quello nero e qui la scatolina è sempre bianca e colore petrolio e all'interno questa qui è fucsia invece quelle degli ombretti sono viola e questo insomma si chiama Swerve ed è nero classico e devo ancora usarlo l'ho preso per mia sorella perché lei ama molto questo tipo di eyeliner ed è quello con cui si trova meglio poi ho preso un bel po' di ombretti in cialda che io ho inserito in questa paletta vuota di Wicon perché mi risultano più comodi da selezionare e applicare come vedete ne ho presi 8 in vari ordini e sono molto contenta di averli presi perché li sto usando e devo dire che mi piacciono parecchio ve li faccio vedere allora il primo è 143 143 questo fucsia viola poi ho preso stay golden questo qui è sempre un fucsia però con un bel po' di rosso all'interno in particolare questo colore qua bello e sia 143 e questo sono matte poi ho preso not to self anche questo matte questo è bellissimo per sfumare la piega ed è uno di quelli che ho usato di più poi ho preso i owe you che è questo arancio sempre matte e poi passiamo alla fila shimmer e questo è il primo che mi è arrivato pinky promise anche questo sul fucsia viola poi ho preso play by play questo è bellissimo perché sembra un color oro e invece ha dei riflessi verdi veramente interessanti è molto strano questo ombretto molto molto bello da indossare molto interessante anche come appunto luce poi finalmente una tonalità un po' diversa ho preso side line questo verde anche questo molto molto luminoso e pieno di riflessi e per ultimo ho preso ho preso save it for later che è questo dorato anche questo molto bello come appunto luce come illuminante bellissimo per un trucco veloce è davvero luminoso e perfetto per l'estate e poi acquistando se non sbaglio 4 ombretti o arrivando dai 20 dollari c'era la possibilità di scegliere una mini size dei loro ultra satin lip e io appunto avendo fatto 3 ordini ne ho ricevuti 3 e sono felicissima di averli ricevuti mannaggia ne prenderei altri 100 di questi sono ottimi e sono appunto i loro rossetti liquidi versione mini e io appunto ne ho 3 il primo che mi è arrivato è stato strip questo è un bellissimo colore molto molto neutro molto bello addosso fa un effetto fantastico si stende in maniera sublime proprio e dura un sacco poi mi è arrivato prim questo scurissimo che mi avete già visto usare anche questo molto bello molto pieno come colore molto facile da stendere molto uniforme essendo un colore scuro non è così semplice l'uniformità e questo davvero è ottimo e per ultimo mi è arrivato Dopey questo qui questo rosa molto molto bello anche questo non pensavo fosse così bello invece mi ha stupito tanto addosso termino con una sorpresa perché con l'ultimo ordine mi sono ritrovata all'interno una full size degli ultrametalli clip io credo abbiano sbagliato non lo so grazie comunque mi è arrivato TM ed è questo qui anche questo è un rossetto liquido molto corposo è un bello denso diciamo e è metallizzato è un color rame molto di tendenza in quest'ultimo periodo quindi ci sta e basta questi sono tutti i miei prodotti color pop che ho ricevuto con i miei ordini spero ci sia presto una una nuova promozione come quella che mi ha permesso di acquistare tutti questi prodotti perché sono davvero 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 interessanti e molto molto validi e quindi mi piacerebbe provare anche altri colori mi piacerebbe acquistare altri di questi insomma ci sono cose davvero interessanti poi stanno uscendo con un sacco di novità anche le palette più grandi insomma tante cose belle e niente ditemi se c'è qualche prodotto che vi ha incuriosito più di qualcun altro magari ve ne parlo vi farò un tutorial vi farò una recensione insomma quello che vi piace segnatemelo qui sotto e io come sempre vi saluto vi aspetto alla prossima e se vi va iscrivetevi al canale mettete un like lasciatemi un commento seguitemi su tutti i social io vi abbraccio e alla prossima ciao